Buongiorno, sono Maria Chiara Iannuzzi e ho frequentato per tre anni il Bachelor of International Economics, Management and Finance presso l'Università Bocconi a Milano e a settembre inizierò il Master in Government International Organization presso la stessa università. Mi piacerebbe molto partecipare al progetto Scuola di Politiche perché sono fortemente motivata ad entrare nel corpo diplomatico italiano ed essendosi la mia formazione focalizzata prevalentemente su tematiche di economia internazionale, affrontare temi di attualità in una prospettiva politica sarebbe fondamentale per complementare il mio percorso formativo. Inoltre ho sempre dimostrato un vivo interesse per le istituzioni e le organizzazioni internazionali come dimostra anche la scelta del mio Master in Bocconi e questa sarebbe un'opportunità fantastica per approfondire la mia conoscenza. Grazie mille per l'attenzione e spero che la mia domanda abbia un riscontro favorevole.